Per dare un'opportunità concreta agli agriturismi che in modo particolare hanno sofferto la crisi da lockdown, Cia Alessandria ha organizzato, insieme a Cia Cune e alla sua Piedmont Good Wines, un'iniziativa di promozione e sostegno, con un titolo che la dice lunga, agriturismo nel cuore. Lo scopo è dare visibilità alle aziende agrituristiche associate e creare una rete con i produttori Cia del Piemonte. Lo strumento per questa operazione promozionale è la Piedmont Good Wine, che ha avuto nella misura 3.2 del PSR le risorse per operare, tradizionalmente utilizzate per le trasferte di promozione internazionale degli associate dei renti. Gli agriturismi che hanno risposto all'invito Cia organizzeranno due cene o pranzi nelle loro strutture entro la fine del 2020, con l'inserimento dei prodotti di un paniere costituito dall'eccellenza di alcune aziende della Confederazione a parte del progetto. Prima di andare a tavola, secondo un calendario organizzato e promosso, si svolgerà un momento di promozione dei prodotti in serata, in abbinamento a quelli dell'agriturismo ospitante. alla presenza dei produttori. Seguirà quindi una degustazione gratuita, promozionale. Piemonte Good Wine riconosce agli agriturismi un contributo per quest'azione di promozione messa in rete dell'imprenditorialità. L'accoglienza dei partecipanti avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, secondo una modulistica fornita da Cia. Sarà anche possibile fare le visite nell'azienda accompagnati dai titolari o loro delegati e informarsi per andare a trovare il produttore dell'azienda e del circuito dell'iniziativa nelle province di Alessandria, Cuneo e Asti. Gli agriturismi aderenti in provincia di Alessandria sono A Modo Mio, Molare, Cadellaglio, Monperone, Alchiar di Luna, Tagliolo Monferrato, Canonica di Corte Aranzo, Muresengo, Cascina Marcantonio, Acuiterme, Labaita, Gavi, Punto Verde, Appunti, Villaronco, Rosignano Monferrato, Val del Prato, Rocca Ghermalda. Commenta il presidente provinciale Cialessandra Giampiera Meglio. Il progetto agriturismo nel quale potrà diventare un piano stabile che potrà crescere e ampliarsi negli anni, diventando un circuito riconosciuto dal pubblico come canale di raperimento delle eccellenze sia da consumare sul posto sia da acquistare. La vendita di questi prodotti consentirà alle aziende anche di avere introiti che possano compensare una parte del mancato guadagno per la ristorazione e l'accoglienza subito dal lockdown.